Un riconoscimento che premia il lavoro decisamente impegnativo portato avanti in quattro anni di attività e che ha coinvolto 21 comuni e le rispettive comunità, assieme a sei università. Tutti hanno giocato il proprio ruolo fondamentale con un obiettivo comune, riappropriarsi di quel senso identitario, del valore, dei luoghi, dei paesaggi, della tradizione e della cultura. Quel progetto, ideato dalla comunità montana Valtellina di Sondrio e finanziato da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, si intitola Le radici di una identità ed è stato premiato a Roma in occasione della giornata nazionale del paesaggio istituita dal Ministero della Cultura. Nelle motivazioni di questa prestigiosa menzione si legge per l'ampiezza ed il carattere di ricerca unitaria su una delle più importanti ed estese valli alpine, promossa da una rete consolidata di soggetti attuatori e finanziatori per il lavoro di riscoperta dei paesaggi culturali tra preistoria e medioevo, abbinando lo studio dei paesaggi della Valtellina al restauro materiale di strutture chiave, espressione identitaria di quei paesaggi. Siamo molto contenti, siamo orgogliosi di questo premio perché essere tra i primi progetti legati al paesaggio a livello nazionale, quindi premiati dal Ministro della Cultura, è sicuramente un valore importante. Questo premia il grande lavoro che è stato compiuto attraverso il progetto Le radici di un'identità, un progetto complesso, durato quattro anni, attraverso il quale, grazie anche alla rete di collaborazione istituita con i 21 comuni del mandamento, con sei università, con una serie di associazioni di un numero abbastanza elevato, ci ha consentito di realizzare un progetto attraverso il quale si è cercato di ridare valore alle presenze sul nostro territorio, presenze di valore storico, architettonico, culturale, ma anche legati alla tradizione e dare valore al paesaggio che contorna questa parte della Valtellina. Un lavoro importante attraverso il quale le nostre comunità hanno potuto riscoprire quel valore identitario che ci lega al territorio e riscoprire luoghi che erano dimenticati, che quindi non erano valorizzati, messi in rete che consentono in questo modo di riscoprire i valori che fanno parte di questa parte della valle e tutti assieme cercare di dare valore e ricostruire quel senso comunitario che è importante per dare anche futuro alle nostre valli.